Tina, questi sciacchi grandi allattano. Flora, ma Tori, Taki, ma siete stupidi, calla. Voi aspettate il vostro turno? Eh, Tina? Flora, ma a te ti piace pure però, eh? Perché se no gli davi un calcio in culo. Eh, ti piace a te, Flora? Che te le toccano, eh? Vandai come stai rilassata, te ne potevi andare dove cavolo volevi, invece ti stai qua. Vuol dire che ti piace davvero, eh? È vero che gli piace? Eh sì, gli piace davvero. Vero, Tina? Grazie. Grazie.